Ciao a tutti ragazzi, sono Davide, questo è il mio primo video d'unboxing e come prima recensione ho deciso di comprare un paio di occhiali della Northwick. Sono prodotti a Barcellona da due italiani, il loro sito è veramente fatto bene, gli occhiali costano poco e la qualità dovrebbe essere elevata. Ho deciso di iniziare con dei Northwick perché sono degli occhiali che non sono assolutamente recensiti in italiano e quindi volevo essere il primo a provarli e a testarli. Adesso faremo un breve unboxing con una review iniziale. Questa è la scatola di imballaggio, la spedizione è stata abbastanza lenta nel senso che la danno dai 3 ai 5 giorni lavorativi invece è evata dopo 7 giorni lavorativi, però se gli occhiali sono belli glielo possiamo anche perdonare. Vediamo che abbiamo una scatola di cartone rigido, abbastanza spesso, Original Sunglasses from Barcellona, come vi dicevo prima, una scatola molto bella, ben fatta. E all'interno dobbiamo trovare due occhiali della serie Creative, quindi personalizzati, creati ad hoc per ogni persona. Andiamo ad aprire. E qui troviamo due custodie verdi molto ben fatte. Andiamo via la scatola. Adesso andiamo a vedere gli occhiali. Questo è il primo paio. Sembra molto ben fatti. Le montature sono prive di scricchioli, il peso è veramente ridotto. E i colori sono come vengono rappresentati sul sito, molto fedeli devo dire. Questo è il primo paio. Il secondo. Anche questo, sembra molto ben costruiti, molto bello il materiale, al tatto risulta morbido e piacevole, molto piacevole. Questi sono gli occhiali. Le lenti sono polarizzate con un codice UV di 400, quindi dovrebbero schermare tutti i raggi dannosi. A breve vi postare un video dell'uso quotidiano di questi occhiali e spero che vi piacciano.